Buonasera a tutti e benvenuti al 73esimo podcast del Movimento Zeitgeist Italia di domenica 27 ottobre 2013. Io sono Vincenzo Barbato, membro del coordinamento nazionale e coordinatore del gruppo di Napoli e quest'oggi vi aggiornerò con notizie provenienti dal nostro paese. Allora, cominciamo. Il nostro team di doppiaggio coordinato da Ezio Corrigione ha provveduto a realizzare l'episodio numero 5 della serie Culture in Decline di Peter Joseph, chiamata Baby Go Boom. Vi consiglio di guardare questa puntata perché è molto bella, molto ironica e come sempre dà dei punti di riflessione che sono veramente eccezionali. Passiamo alla prossima notizia. Ecco, il ventesimo Zeitgeist Spot, realizzato sempre grazie al nostro GDL grafica e al nostro GDL doppiaggio. In questo caso, in questo ventesimo episodio, si analizza l'accesso universale ai beni e servizi con la testimonianza e la partecipazione di Federico Pistono in un evento datato tre anni fa di Bologna, in cui si tiene il primo Zeitgeist ed è veramente molto bello perché nonostante sia vecchio di tre anni è comunque molto attuale rispetto alle tematiche che portiamo avanti e soprattutto dà, come sempre, tantissimi punti di riflessione che si sono poi concretizzati e vi faremo sapere anche il perché durante queste settimane sul nostro blog, quindi vi consiglio di seguirci per seguire tutti gli sviluppi di questo progetto inerente all'accesso ai strumenti, cultura e tutto ciò che secondo noi debba essere diffuso gratuitamente all'umanità per il progresso e per lo sviluppo vero. Ok, continuiamo. Ho pubblicato qui su TeamSpeak un articolo che abbiamo tradotto grazie al GDL di traduzioni coordinato da Nino Aloi, uno dei GDL più forti che abbiamo e si impegnano tantissimo e abbiamo preveduto a pubblicare, grazie all'impegno di Sara Di Sara, che è una nuova arrivata, questo articolo che parla di una cosa che è abbastanza logica, ma come sempre dobbiamo portare i numeri statistici per comprovare quello che è logico e per non cadere nei soliti miti o essere chiamati come al solito pazzi o utopici. In particolare in questo articolo si parla di come l'impegno scolastico da parte dei bambini in età precoce aiuti ad evitare i comportamenti problematici e abbandono degli studi e anche di conseguenza anche dipendenza da stupefacenti, da grandi e con tante testimonianze sociologiche ed è un articolo molto bello che ovviamente è uscito anche sulla rivista Nature e quindi è una punta molto accreditata in peer to peer. Quindi vi consiglio di leggere i nostri articoli, in particolare questo se siete interessati alla pedagogia e all'insegnamento, insomma. Passiamo col prossimo articolo. Altro articolo tradotto al nostro GDL doppiaggio, grazie sempre a Sara, e questo si intitola formazione online in laboratorio virtuale. Grazie alle odiane tecnologie che ci consentono di operare sempre più ed essere quasi dotati del dono dell'ubiquità, abbiamo in un'università spagnola se non sbaglio a Madrid, si è provato il primo test di controllo remoto attraverso macchine da laboratorio, cioè da un lato all'altro del mondo degli scienziari hanno controllato degli strumenti di analisi con successo e con una precisione assurda e quindi questo dimostra come le odiane tecnologie possono aiutare le persone anche che si sono da un altro capo, da un punto all'altro del mondo e quindi possiamo raggiungere dei livelli straordinari di efficienza grazie alle odiane tecnologie. Ovviamente questo si può adattare a qualsiasi ambiente e a qualsiasi settore, quindi lo sviluppo tecnologico in questo caso ha giovato la ricerca in particolare e lo sviluppo per quanto riguarda per debellare appunto malattie gravi come ad esempio il cancro eccetera. Passiamo allo prossimo articolo. Ecco questo nostro ventunesimo Zeit Spot che si intitola Non violenza e atteggiamento propositivo. Questo spezzone è tratto dall'incontro che facemmo tempo fa con il Meetup Europa, coordinato da Mike e da Massimiliano Gambardella. In questo spezzone si può appunto osservare la nostra Giovanna che fa un'osservazione molto acuta su come la non violenza verbale possa appunto giovare un tipo di comunicazione che poi si traduce in successi pratici e soprattutto non si va incontro a risse che tutti quanti conosciamo attraverso i nostri talk show in televisione e soprattutto avere un atteggiamento propositivo. La solita storia che comunque sentiamo anche dal Movimento 5 Stelle ed è giustissimo, cioè poca protesta e più proposta. Quindi queste sono argomentazioni che noi portiamo sempre avanti anche nel nostro movimento e Giovanna con la sua acuta osservazione ha cercato di comunicare un concetto che è ben poco applicato soprattutto nei media mainstream italiani. Quindi ringraziamo Giovanna per questa sua osservazione e vi consiglio altamente di ascoltare queste sue parole. Poi passiamo al report informativo delle attività del Movimento 5 Stelle. È aggiornato due giorni fa. Non so se tutta la comunità è aggiornata ma al di là dei nostri podcast che possono essere più o meno lunghi abbiamo deciso di adottare un'altra strategia comunicativa per facilitare la comprensione e per facilitare agli utenti nel seguire le nostre attività in tempo reale. Quindi anche se abbiamo il podcast abbiamo inviato un altro strumento alternativo che è una reportistica scritta che noi aggiorniamo attraverso Google GoC in tempo reale. Quindi le persone possono notare in qualunque momento della giornata indifferita anche senza partecipare direttamente ai podcast tutti i nostri progetti con tanto di aggiornamenti progetto per progetto e soprattutto l'aggiornamento del documento in generale. Quindi stiamo cercando di facilitare anche la comprensione dei nostri progetti a tutti coloro che ci seguono ma che magari non hanno molto tempo per star dietro ai podcast e quindi attraverso questo strumento cerchiamo di essere più efficienti. Spero vi piaccia appunto. E infine abbiamo la notizia della nostra raccolta crowdfunding, una raccolta di punti attraverso la rete per rifinanziare le nostre stampanti 3D da destinare ai nostri gruppi di Milano e Napoli e per aggiornare le nostre stampanti o per costruirne addirittura di nuove da devolvere, da donare oppure semplicemente per un uso didattico poi dipenderà da caso a caso insomma. Adesso che l'abbiamo lanciata da circa 13 giorni abbiamo raccimolato circa il 22% della somma totale, abbiamo chiesto 1000€ e per chi sa quanto costano le stampanti 3D, sa benissimo che una sola stampante può arrivare a costare circa 700€. Noi invece invece con 1000€ abbiamo provato a costruirne due e abbiamo dovuto aumentare un pochettino il prezzo e abbiamo appunto alzato il prezzo perché la tassazione su Paypal è altissima e quindi tutto il resto per accimolare la nostra cifra di 800€ speriamo in caso di successo di arrivarci e nonostante avessimo scelto una delle piattaforme più formidabili che c'è appunto su internet che è Capital in quanto non prende tasse a differenza di tutte le big crowdfunding platform e soprattutto è molto intuitiva. Quindi innanzitutto faccio un appello, l'ennesimo appello a tutti gli utenti che ci ascoltano che se hanno intenzione di donare e quindi di far sviluppare i nostri progetti sono ovviamente ben accetti e ovviamente riceverete delle ricompense in formato virtuale e soprattutto per una donazione di 200€ noi provvediamo a fornire i kit per costruirsi una stampante in prossimità delle regioni di Campania e Lombardia. Abbiamo scelto questa strategia che può essere da un punto ledere appunto la nostra stessa iniziativa perché essendo un movimento che tiene appunto la sostenibilità ambientale ci sembrava un'incoerenza appunto spedire in tutto il mondo dei semplici pezzi di plastica che possono essere reperiti anche nella propria nazione in quanto le stampanti 3D si stanno sviluppando sempre di più e chiunque più o meno può reperire i pezzi plastici anche nella propria nazione. Quindi per una questione di coerenza abbiamo scelto questa tipologia di strategia. Quindi vi consiglio di diffondere, di devolvere almeno 5€ per la nostra campagna e di diffonderla soprattutto per realizzare i nostri progetti in quanto movimento non profit, non attingiamo da nessun tipo di punto, ci sta bene così e continueremo così, contiamo semplicemente sul contributo delle persone in generale. E di fatti questo lo ha anche sottolineato il sito Tom's Hardware che è uno spin-off del gruppo espresso, Repubblica in poche parole, in cui questo sito si occupa di tecnologia e attraverso la penna di Valerio e grazie al suo bellissimo articolo ha provveduto a diffondere la nostra iniziativa e se abbiamo questo 22% è grazie a questo sito. Quindi è un risultato eccezionale. Ma teniamo comunque a precisare che la maggiore pubblicità che ci possono fare è appunto quella da parte degli utenti, quindi un'altra volta ribadisco che abbiamo bisogno appunto di fondi per sviluppare i nostri progetti, ce ne saranno in futuro e spero che gli utenti della rete e appunto i simpatizzanti del movimento oppure semplicemente delle nostre tematiche possono aiutarci in questo campo. Vi ringrazio e io non ho più novità nazionali da diffondere, quindi passerei la parola ai GDL. Ti vuole cominciare per primo? Dato che l'hai già nominato, andrei con il GDL traduzioni. Perfetto. Sono Nino Noi, coordino il GDL traduzioni e come ha detto Vincenzo abbiamo già tradotto un po' gli articoli, molti sono stati già pubblicati, Sara e io abbiamo già tradotto un po' gli articoli sia sulle stampanti 3D sia su altre notizie interessanti che avevamo in archivio del 2013 e abbiamo anche sottitolato l'episodio orsai di Cutting Decline che è già passato al doppiaggio e di cui si sta occupando il GDL doppiaggio. Inoltre abbiamo anche ripreso con il Symposite, abbiamo già trascritto quasi tutti i video e iniziamo le traduzioni di metà video, quindi dovremmo anche riuscire a arrivare finalmente in pari col Symposite, per cui il progetto è stato interrotto per un po' di tempo. Il GDL è ripartito, siamo in 5 però lavoriamo a pieno ritmo, quindi speriamo di continuare così. Per adesso articoli e il prossimo progetto è la revisione della Chapter Guide. Perfetto, grazie Nino. Prego. Bye bye Masmo. Partiamo con il GDL grafica, dunque nel GDL grafica abbiamo sempre l'editing video dell'evento Metafair di Roma, che insomma i lavori sono aperti, adesso Ezio ha in mano i file e sta provvedendo a fare appunto questo editing video, esorto ancora un'altra volta a tutti quanti quelli che possono dare una mano con l'editing video di farsi avanti, perché insomma ce n'è bisogno, ci solleverebbe un po' di compiti gravosi e niente, questo per quanto riguarda l'editing video degli eventi, niente poi vabbè solita routine nel GDL grafica, pubblicazione di podcast eccetera e vabbè non sono cose molto interessanti e poi anche per il GDL programmazione c'è un po' di routine nel senso che ho sistemato un po' di robe manutenzione del sito attuale, poi invece per quanto riguarda il sito che stiamo costruendo, anzi io direi che sugli sviluppi e l'aggiornamento che ha fatto su Openatrium potrebbe parlare direttamente a lui riguardo a questo? Sì, Openatrium, la piattaforma basata su Drupal, la distribuzione basata su Drupal e open source per il coordinamento e l'organizzazione è finalmente uscita dalla fase di beta, la versione 2 di Openatrium, adesso in 2.0 stable, sebbene molti moduli siano ancora in fase di alpha o beta la piattaforma è diventata stabile e potremmo iniziare a utilizzarla e a configurarla come nuova piattaforma per il coordinamento del GDL e del GCC, speriamo a questo ritmo in un mese o due mesi di riuscire a completare il lavoro su entrambe le piattaforme. Perfetto, grazie ragazzi, tutti questi aggiornamenti sono veramente eccezionali, non penso che ci sia qualcun altro coordinatore di GDL che possa fare le portistiche, quindi possiamo passare ai gruppi cittadini? Penso proprio di sì, ok, quindi posso cominciare tranquillamente io con Napoli, allora abbiamo completato la manutenzione sulla stampante 3D, in particolare abbiamo montato, installato il termistore, ovvero la resistenza che provvede a scaldare la plastica, quindi siamo prossimi alla realizzazione di conferenze sparse su tutto il territorio napoletano per diffondere la stampante 3D, l'ottica open source e anche le tematiche che portiamo avanti come movimento Zeitgeist. Vi faremo ovviamente sapere sul nostro blog e tutto il resto su pagine social eccetera eccetera. Ho già spiegato qui, abbiamo lanciato la campagna di crowdfunding, dopo uno studio ho approfondito sia delle centinaia di piattaforme che ci sono in tutto il mondo, lo studio su come promuoverle nella maniera più efficiente e a livello comunicativo promuoverla per bene e quindi tutto a posto. Cerchiamo, come ho già detto, solo che le persone partecipino un pochettino di più. Del resto abbiamo diversi progetti che abbiamo in corso tipo il digitalizzatore di libri chiamato anche Book Scanner DIY, il cui coordinatore è appunto Antonio Gison del nostro gruppo di Napoli che è presente anche qui. Antonio magari puoi farci una reportistica veloce? Sì, allora il Book Scanner, già ho calcolato tutti i prezzi approssimati, dovrebbe essere sul 150 Euro, è composto da due fotocamere che scannerizzano il libro e già esistono altri in commercio, però noi cerchiamo di renderlo automatico, perché ovviamente sempre nell'ottica open source noi cerchiamo di migliorare questo Book Scanner e renderlo superiore a quello che potresti trovare pagandolo. Perciò cercheremo di creare al più presto il primo Book Scanner automatico. Per questo ho già trovato tutti i software che trasformano dalla foto al ppf e questo è tutto. Perfetto, grazie Antonio. Vorrei anche menzionare e scusarmi anche per Raffaele perché ho dimenticato appunto di dirvi che il nostro nuovo membro Raffaele De Martino ha provveduto a realizzare veramente delle ottime copertine per cover DVD rigide, standard, slim e anche addirittura per i CD. E addirittura ha anche realizzato delle cover origami con tanto di linee guida sulla stampa in modo da agevolare e da rendere ancora più semplice la diffusione tramite i DVD dei nostri film, filmati e contenuti in generale e soprattutto sono molto più economiche e sono anche molto più carine rispetto alle classiche foderine in plastica. Magari Raffaele vuoi dire direttamente tu cosa stai facendo, vuoi aggiornare e magari ascolteremo anche per la prima volta la tua voce attraverso un podcast. Grazie. Buonasera a tutti, volevo dire giusto qualche parola sulle cover perché ci sono alcune cose che magari volevo cambiare, per esempio il dietro come sfondo, abbiamo già detto che si potevano fare più chiare, però sempre per se si accambiarle oppure vada bene così come sono. Poi opterei per quelle origami perché sono molto più semplici e non necessitano di una cover in plastica o comunque di altro materiale. Per aggiornamenti non ne ho. Hai già detto tutto. Ok, grazie. Scusami. Ovviamente tutti i sorgenti saranno caricati in Creative Commons e attraverso il nostro gruppo di lavoro di grafica e video coordinato da Massimiliano Masciulli. Quindi io penso che ci sono altri progetti che ovviamente sono in corso come la calendarizzazione di eventi nel nostro gruppo che già ho menzionato. C'è anche in corso la creazione di un gruppo di acquisto solidare coordinato dal nostro attivista Massimiliano Gambardella. La costruzione del nostro impianto idroponico stiamo aspettando la spedizione dei LED da parte di un venditore inglese che tarda ad inviare i prodotti appunto. E in generale la conferenza anche nella scuola di Antonio per la stampante 3D. Ultimo progetto che abbiamo ancora in corso e abbiamo già finito con la realizzazione del preventivo economico è quello del drone open source hexacopter con la tecnologia a passo variabile per le ricognizioni ambientali soprattutto nella zona della campagna dove ci sono parecchi problemi legati all'inquinamento ambientale assolutamente allo sversamento di rifiuti o rughi di pneumatici eccetera eccetera. Quindi ci sono parecchie situazioni che questo drone open source potrebbe aiutare a sventare attraverso le forze dell'ordine e ovviamente è un drone in open source qualitativo e assolutamente molto più economico rispetto a quelli che si trovano in vendita a prezzi veramente esagerati e noi cercheremo di renderlo quanto più efficiente e qualitativo possibile attraverso la tecnologia Arduino e ovviamente vi faremo sapere tutto. Quindi per adesso il gruppo naturaletano non ha altre novità in particolare. Quindi siccome vedo che c'è Francesco Manghi che non lo sentivamo da parecchio vorrei domandare appunto se avete delle novità lì a Reggio. Allora qui a Reggio Emilia non abbiamo delle grosse novità. Io non so se nelle settimane scorse invece è venuto qualcuno di Bologna a parlare. È venuto qualcuno? Sì ma non ci ha dato molte novità. Nel senso sappiamo che hanno partecipato al TED di Bologna ma non ci hanno detto altro. No, infatti più o meno è stato quello. Cioè abbiamo partecipato al TED di Bologna, ci siamo trovati in questa serata qui, sarà tutta la mattinata e nel pomeriggio ed è stata diciamo un'occasione innanzitutto per conoscerci tra gente che comunque abita abbastanza nelle vicinanze nel senso che andare a Reggio Emilia a Bologna sono mezz'oretta di treno insomma. Di altre novità non ci sono stati. Io segnalo che si è svolto anche se chiaramente non riguarda il movimento Zeitgeist ma comunque alcuni progetti si è svolto Linux Day quindi tutto quello che riguarda il discorso dell'open source che è stato fatto qui in giro tramite altri mezzi però insomma l'organizzazione del territorio qui a Reggio ancora non abbiamo fatto nulla in questo periodo. Ok, grazie Francesco. C'è qualcun altro? Non credo. Ragazzi se… Ah ok perfetto, vai Giò. Sì allora io avrei… io sono Giovanna Marino, coordinatrice del Movimento e del Capito italiano e ho un paio di annunci da fare per quanto riguarda le notizie internazionali e cioè che mercoledì ci sarà il meeting internazionale alle 24 ore italiane per cui chi volesse partecipare è libero di venire ad ascoltare e l'altra notizia è che il 15 novembre a Londra ci sarà Peter Joseph che sarà disponibile a rispondere a delle domande per un paio d'ore due o due circa e questo evento è stato possibile grazie al contributo di Tom Williams che ha organizzato l'evento e questo è tutto, grazie ok ragazzi ci sono altre novità? ok allora se non ci sono altre novità chiuderei il podcast passerei alla discussione libera e voglio ricordare che ogni due domeniche alle ore 21.30 ci sarà un incontro via TeamSpeak da parte del mondo Zeitgeist Italia per tutti i volontari che vogliono darsi da fare e per aggiornare la comunità sui sviluppi nazionali e internazionali le istruzioni per collegarvi alle prossime sessioni del nostro podcast sono reperibili sul nostro sito e anche su YouTube quindi con tutta tranquillità e con i nostri pratici video tutorial è semplice quindi io vi saluterei, sono Vincenzo Barbato membro del coordinamento del movimento Zeitgeist Italia e ci sentiamo la prossima volta buona serata a tutti e grazie ragazzi grazie a tutti grazie a tutti